Marco, che cavi usi, che microfoni usi preferiti nel tuo studio? Uso microfoni, ne uso tanti, dipende per quale applicazione, i cavi uso molti cavi reference, soprattutto per le riprese di strumenti solisti, soprattutto quelli con il cavo pieno, con il conduttore pieno, sia per chitarra che per voce. Con il rame solido, ma li ritieni compagni del tuo mestiere, cavi e microfoni? Ritengo che diano un suono più pulito e più realistico, i microfoni uso molto i microfoni Audix, soprattutto per la batteria, tutto il set di batteria con i D6, i D2, i D4, i D5 eccetera. Mi è capitato ultimamente di usare l'OM7 proprio per registrare le voci direttamente in studio, come dinamico per le voci molto rock, come è successo con la Kuna Coil, per le voci di andare a ferro. In ogni caso l'intervento dinfonico è agevolato da un buon microfono e da un buon cavo? Beh sicuramente, sicuramente, anche perché se no diventa un colo di bottiglia notevole. Se la sorgente è buona ma la trasluzione non è buona.